L'aula multimediale dell'ASL di Teramo in circonvallazione Ragusa è stata intitolata al direttore generale Roberto Fagnano scomparso di recente. Sì, era il primo atto dovuto penso in ricordo di una persona che ha dato tanto alla nostra sanità, alla nostra ASL di cui dobbiamo esserne riconoscenti e fieri di quello che ha fatto. Tra l'altro questa sala l'ha voluta fortemente Fagnano. Sì, questa l'abbiamo studiata insieme pezzo pezzo. Lui eravamo come è Toto e De Filippo quando abbiamo fatto acqua perché uno proponeva e l'altro però alla fine si è fatta un'aula veramente degna anche per la città di Teramo. Questo non è solo della ASL della città di Teramo che quando può servire noi la daremo a chi per scopi culturali. Lei ha detto che l'inaugurazione di oggi è solo l'inizio di una serie di iniziative dedicate a Fagnano la prossima venerdì, un convegno? Un convegno, sì, che secondo me è un convegno sulla innovazione sanitaria, ma è un convegno che dovrebbe essere ciclico, fatto ogni anno come una sorta di appuntamento fisso per il ricordo di una persona speciale, con doti umani particolari, con qualità professionali eccellenti. E non mi stanco mai di ripetere, anche se non era di qua, credeva in Teramo, credeva nella sanità della Mana che potesse essere non solo importante per il rilancio della nostra provincia, ma anche di tutto il territorio regionale. All'inaugurazione anche i familiari del dottor Fagnano, il ricordo è stato affidato al nipote che lo seguiva spesso anche durante il lavoro. Sì, è stato un orgoglio avere uno zio simile, sicuramente la differenza era la sua persona, una persona dal tratto umano inconfondibile. In secondo luogo ovviamente grandi doti manageriali, per questa azienda ha fatto tanto, i risultati sono evidenti, siamo contenti di essere qui a Teramo. Recepiamo questo suo legame verso la città di Teramo e Teramani. Eccellenza, lei ha voluto ricordare la tranquillità che trasmetteva il dottor Fagnano. Sì, era una persona che manifestava innanzitutto la sua competenza, la sua professionalità, ma tutto ciò vissuto con serenità e tranquillità. Lui era consapevole di ciò che diceva perché era davvero una riflessione, una proposta che nasceva da una sua convinzione personale. E' un po' quelle persone che hanno autorità, che hanno responsabilità, ma che vivono personalmente la responsabilità a cui sono chiamate. Per cui questa sintesi tra ciò che lui sentiva e su cui aveva meditato, anche pensato, e la responsabilità verso gli altri. Quando la proposta viene da una persona che dà testimonianza che ciò che ha scelto non è per sé, ma è un servizio per gli altri, penso che anche le scelte più impegnative diventano anche facilmente condivise da tutti.